Radio Bruno Domenica parte una serie di domeniche importanti qui alla Casa Museo Pavarotti ci sarà possibilità di finalmente ritrovarci sempre rispettando ovviamente le distanze del Covid quindi siamo all'aperto e il metro viene rispettato ma c'è la possibilità di fare una colazione insieme quindi buongiorno a Casa Pavarotti la possibilità di ascoltare i nostri giovani dal vivo insieme al maestro Paolo Andreoli in aree d'opera, aree popolari, canzoni e la possibilità di visitarla a Casa Museo e per chi poi si vorrà fermare dopo l'una anche la possibilità di pranzare al ristorante Luciano gustando un po' i suoi piatti tipici quindi diciamo una ripresa, una grande ripresa della cultura una voglia di ricominciare seguendo un po' la filosofia di Luciano che era sempre quella di non lasciarsi abbattere ma credere sempre nella bellezza e la vita e qui da Casa Pavarotti ci riproviamo nel nostro piccolo ma ce la mettiamo tutta per ripartire il giorno poi credo che sia tutto da ballare con te grazie a tutti grazie a tutti